Ciao ragazzi, ciao a tutti, un saluto da Calciotoro, bentornati in questo nuovo video video recap di Calciomercato per parlare dei colpi in entrata e delle cessioni in ambito granata partirei subito con le cessioni, partirei da Armando Izzo su cui si sono fatte veramente tante voci, c'è una storia poi in seguito rimossa dal Calciatore con delle fiamme giallorosse ad indicare un suo possibile movimento verso Roma in ogni caso è bene fare chiarezza, è bene fare chiarezza per quanto riguarda gli altri giocatori siamo nella stessa situazione che vi avevo descritto poco fa anzi poco fa, col video di ieri o l'altro ieri, non mi ricordo neanche precisamente Gigi, Jacofalche, Perbelotti è arrivata un'offerta dal Tottenham, ovviamente è rifiutata per meno di 70-80 milioni il Calciatore non parte, soprattutto si tengono in considerazione solamente offerte a titolo definitivo e in ogni caso c'è il veto di Cairo, Vagnati e di tutti sulla cessione del Gallo e anzi si discuterà probabilmente anche di rinnovo a vita per rinnovo a vita intendo fino al 2025-2026 in ogni caso ragazzi, in ogni caso Armando Izzo dunque il mastino napoletano classe 92, ex tra le altre di Genoa, Avellino e Triestina è ricercatissimo in questa sessione di calciomercato estivo da parte di diversi club italiani che sono Inter, Roma, Lazio, Napoli tutti i club che vorrebbero acquisire al più presto le prestazioni sportive del calciatore chi come riserve Guscio, mi viene in mente Inter probabilmente Napoli chi invece a titolo definitivo, scusate, chi invece per fare il titolare e mi viene in mente la Roma di Paolo Fonseca proprio la Roma secondo Sport Mediaset avrebbe trovato un accordo di massima sia col calciatore che col Torino dichiarando dunque che Izzo fosse vicinissimo all'approdo a Roma 24 milioni prestito con diritto di riscatto ma le cose stanno veramente così secondo diversi fonti e come vi avevo anticipato anche ieri diverse fonti che sono le solite, quelle più affidabili diciamo Matteo Pedrosi, Torino Granata Official che mi sento di riconsigliarvi e riproporvi no, le cose non stanno così ci sono dei sondaggi, c'è una trattativa in corso con la Roma sì, c'è una trattativa in corso assolutamente ma il Torino non fa sconti e soprattutto non accetta un prestito con diritto di riscatto solo con obbligo o a titolo definitivo formula poco gradita dalla Roma e soprattutto per una cifra di 24 milioni il club capitolino non è disposto a prendere il calciatore contate che attualmente la situazione diversi club interessati ma richiesta del presidente veramente troppo alta per le capacità del calciatore non si va oltre come offerte ai 18-15 milioni e secondo me sarà anche la cifra per il quale verrà venduto perfetto per la difesa 3 quindi per il nuovo modulo di Paolo Fonseca per la nuova Roma che nascerà andrebbe a fare il titolare sarebbe un grande passo in avanti per la sua carriera ma attualmente abbiamo solamente sondaggi purtroppo per quanto riguarda le cessioni le trattative si fanno in due appunto e di conseguenza se non vengono rispettate le richieste non c'è spazio per nessuno Izzo, Izzo parlando più specificatamente di Izzo quest'anno con Giampaolo se rimarrà cosa molto improbabile perché alla fine verrà ceduto secondo me anche andando sotto di qualche milione rispetto alle richieste iniziali non giocherà neanche nel ruolo di difensore centrale come sappiamo per tutta la sua carriera ha giocato prevalentemente in una difesa 3 a sinistra anche a destra qualche volta l'abbiamo visto ovviamente con la difesa 3 di Mazzari era stato preso per quello con Giampaolo nella difesa 4 non trova spazio se non come terzino destro un terzino destro mediocre l'abbiamo visto anche adattato là con la nazionale di Roberto Mancini nulla di che chiaramente in copertura non male sappiamo che a Torino spesso si dilettava ad andare in avanti a cercare di insomma rompere in avanti certo ha un buon fiuto del gol con i cross non ci sa fare non è un terzino di spinta di conseguenza secondo me non è buono neanche per il 4-3-1-2 di Giampaolo in quel ruolo è un esubero è un calciatore da mandare via al più presto nonostante le sue enormi qualità certo personalmente dal punto di vista umano non è che mi mancherà molto Izzo al di là dei commentini su Instagram dopo tutte le partite e soprattutto del suo atteggiamento da piangina in campo perché ragazzi veramente sembrava di avere un calciatore che lo sfiori muore per terra sul campo piange e si rotola è una cosa insopportabile francamente non mi piace vedere questo atteggiamento da parte di un calciatore non perché voglio che il calciatore rimarchi il simbolo di mascolinità di uomo forte ma quanto perché insomma le simulazioni nel calcio a meno da me non sono ben apprezzate non mi piacciono questi tipo di calciatori sì furbi quanto volete però dal punto di vista etico veramente molto discutibili quindi per Izzo ragazzi per ora solo sondaggi da parte di tutte le squadre non abbiamo conferme da nessuna parte per quanto riguarda le altre cessioni siamo ripeto allo stesso punto mentre in entrata si stanno cercando di fare dei passi in avanti per Torreira per quanto riguarda Torreira è arrivata la notizia a prendere con le pinze la bomba sganciata da tutto sport nella notata sarebbero stati fatti dei passi da gigante del Toro per Torreira l'Arsenal scende a una proposta scende comunque a 24 milioni sarebbero 22 milioni di sterline se non sbaglio d'occhio in ogni caso sembra voler venire incontro al Torino di Urbano Cairo ma non ci siamo ancora con la formula e soprattutto secondo me a dirla tutta si sta ancora nell'area dei sondaggi in ogni caso per ora il Toro è l'unica squadra rimasta in corsa per il calciatore ci sono sempre gli spettri di Roma e Fiorentina ma se c'è una settimana decisiva una settimana in cui bisogna chiudere per forza anche se a Firenze non l'avremo chiaramente per ovvi motivi è questa sperando che stasera già possano esserci dei passi in avanti spero di poter chiudere questa trattativa questa telenovela anzi spero che si possa chiudere questa telenovela al più presto in un senso o nell'altro perché è veramente faticoso anche per una pagina voi mi chiedete sempre notizie di Torreira e io ragazzi vi rispondo come posso perché le novità non ci sono mai si sta sempre nel punto di una trattativa che sta per sbocciare ma ancora non abbiamo notizie se non il mero interessamento da parte della dirigenza Granata confermato più volte molteplici volte io sono preoccupato qualora non dovesse venire per le alternative ma voglio dare fiducia alla società chiaramente tempo e pazienza gliela si dà gliela si dà alla società per un calciatore come Luca Torreira staremo a vedere come terminerà questa trattativa queste sono le novità in entrata ovviamente ci sono state le voci anche per quanto riguarda il trequartista e secondo me qualora dovesse andare via uno tra Verdi e Berengher sicuramente ci si getterebbe sopra capofitto su uno dei nomi tirati fuori molto interessanti se volete poi farò anche un video di approfondimento al riguardo non lo so in ogni caso questa è la fine del video fatemi sapere voi che cosa ne pensate iscrivetevi al canale che io ho la calciotoro lasciate un mi piace condividete il video seguitemi su Instagram sempre che io ho la calciotoro e niente ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti